La Pugese Udine tornerà a giocare in campionato domenica a Piacenza, poi alla 2 l'ore 18. Piacenza che evoca ricordi dolci perché nella passata stagione Udine vince per la prima volta nella sua storia, nella storia della Pugese Udine, in Serie 2. Che partito dobbiamo aspettarci, coach? Beh, intanto noi abbiamo tanta voglia di riscatto dopo la trasferta di Iesi tra campionato e Coppa. Abbiamo bisogno di punti, abbiamo bisogno di ritornare a vincere in trasferta, perciò ci sono tanti fattori e motivazioni per far sì che questa debba essere una trasferta importante per noi. D'altro canto, Piacenza col cambio di allenatore e con l'innesto anche di un giocatore esperto come Amoroso e Passera, è sicuramente una squadra più profonda, più importante. L'ultima partita di campionato ha vinto bene con Ravenna, perciò ci sono tante considerazioni da fare, ma noi abbiamo bisogno sicuramente di tornare a vincere in trasferta, ci stiamo preparando pronto per questo. E a Piacenza sono accadute anche altre squadre blasonate, tipo Verona, quindi antenne dritte? No, no, è vero, è vero. Piacenza è una squadra che chiaramente è dietro un classifica, ma è una squadra che comunque anche nelle sconfitte le ha giocate tutte. È una squadra tosta, con giocatori esperti e due buonissimi americani, perciò è una trasferta da prendere con le molle, ma noi non possiamo assolutamente pensare di andare a fare una partita normale. Dobbiamo fare una partita super, una partita attenta e concentrata e tosta su tutti i punti di vista, perché come dicevo ci sono ancora punti da mettere in cascina e in campionato ci sono ancora sette partite, ma partite insidiose iniziando proprio da questa trasferta, ma come ho detto non possiamo più sicuramente lasciare punti per strada, anche se sappiamo che questa è una squadra che ci darà del filo da torcere. Grazie Grazie Grazie.